A pochi giorni dal via ufficiale alla stagione turistica la qualità del mare risulta essere ottima per la balneazione lungo tutta la costa terramana. A certificarlo l'agenzia regionale Arta che nei giorni scorsi ha diffuso i risultati delle prime analisi stagionali effettuate il 19 aprile nei 44 punti di prelievo tra Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi. Un ottimo risultato per quest'anno in prospettiva anche per la stagione turistica che è alle porte, siamo fiduciosi di riconfermare una stagione anche se delicata a seguito della pandemia, però l'anno scorso ci ha dimostrato che la gente ha voglia di mare, ha voglia di uscire e dunque siamo pronti. Qualità delle acque eccellenti, dunque siamo veramente contenti e soprattutto siamo in attesa della riconferma della bandiera blu, abbiamo saputo della conferma della bandiera verde, dunque due vestilli importanti. L'acqua di mare ha fatto registrare valori di carica batterica ampiamente entro i limiti anche nelle foci dei fiumi e in quei tratti di mare che avevano fatto registrare casi negativi durante la stagione 2020, questo anche grazie al grande lavoro portato avanti dai primi cittadini. Abbiamo messo in campo una task force negli anni passati e soprattutto nell'anno in corso, soprattutto per i problemi che si erano evidenziati anni addietro, ovviamente questo è un risultato importante, speriamo di continuare su questo ambito e soprattutto con la collaborazione di chi ci deve supportare soprattutto per eliminare questo annoso problema che ogni tanto si ritrova nella costa abruzzese. Si pensa anche agli eventi per la stagione estiva, per quello che sarà possibile ovviamente? La programmazione degli eventi si sta portando a termine grazie anche all'assessore al turismo e soprattutto anche ai giovani della consulta giovanile che hanno dato molti spunti per la prossima stagione estiva, ovviamente rispettando le misure anti-covid faremo comunque un'estate di accoglienza per i tanti turisti che sceglieranno il nostro territorio. Grazie.